Il palazzo della massima istituzione calabrese è il regista italiano del momento che vi entra in infradito. Il quartiere degradato dei rom di Gioia Tauro è il governatore della Calabria che mette assieme promozione e impegno politico. Luoghi e persone che si incrociano grazie al successo che sta avendo il lavoro di Giona Scarpignano sul ghetto della Ciambra che a marzo potrebbe concorrere per l'Oscar. Un incontro propiziato dal sostegno per la pellicola offerto dalla Calabria Film Commission è diventato occasione per spiegare che la regione intanto contribuirà a rendere più capillare la distribuzione del film. Un governatore che interpreta il sentimento di una regione che spera in qualche Oscar e che intanto ringrazia pari delle porace il presidente calabrese della Film Commission Lucana che è partner nella fattura di un film coprodotto da Martin Scorsese. Abbiamo rinnovato il nostro accordo ad agosto per altri tre anni e abbiamo già ottenuto un primo risultato nel senso che in Calabria si sta girando Trust che è una serie televisiva, l'opposto in un punto di vista cinematografico rispetto a quello che è la Ciambra, da un cinema impegnato invece a una fiction che è aperta a un grande pubblico. La semina di Oliverio premiata già con un investimento culturale che ora nel quartiere metafora calabrese del degrado urbano sperano di trasformare in riqualificazione. Riteniamo che realtà come queste non possono trovare indifferenza, voltare la faccia dall'altra parte rispetto a situazioni come questa. Chiaramente bisogna operare nel rispetto delle identità, non si risolvono problemi di questa portata sociale, umana, violentandosi. Carpignano indossando la t-shirt del festival cittadino di cui è direttore e prima di prendere l'aereo per Israele è sembrato voler rimanere con i piedi per terra. Un italo americano calabrese che finalmente non confonde i ruoli. Io non mi occupo della politica, qualsiasi cosa che la regione possa fare per aiutare loro lo dovrebbe fare. Grazie a tutti.